Buonasera e bentornati ad una nuova puntata di Spazio Occupato. La puntata di oggi sarà una puntata originale. Parleremo di un tema che non abbiamo mai trattato, almeno non abbiamo mai trattato così nel dettaglio. Infatti parleremo di sport. Come ormai avete imparato a capire, ci siamo imparati a conoscere, Spazio Occupato non è una trasmissione di carattere sportivo, però abbiamo raccontato diversi spazi occupati e racconteremo proprio uno spazio occupato dalla squadra di calcio locale, l'Aquila 1927, che domenica scorsa, 26 marzo, ha raggiunto la promozione in Serie D, con ben tre turni di anticipo. Dunque ne parleremo nella nostra trasmissione, anche andando a vedere che cosa vuol dire questa vittoria nel mondo sportivo e soprattutto per la nostra città. Dunque vediamo subito la sigla e scopriamo insieme i nostri ospiti. Bene, torniamo in studio per cominciare la nostra puntata di Spazio Occupato, il nostro dialogo. Abbiamo in studio il mister dell'Aquila 1927, Massimo Epifani, e Angelo Liberatore, il nostro collega della redazione della QTV che racconta da tanto tempo lo sport aquilano, in particolare l'Aquila Calcio e cura anche la rubrica sportiva del giornale online Newstown. Dunque abbiamo detto che è la nostra introduzione, che di solito non ci occupiamo di sport in questa trasmissione, ma è successo qualcosa di importante, che merita proprio la nostra attenzione. Per questo ci soffermiamo su questa promozione, questo modo di occupare uno spazio dell'Aquila 1927. Interpretiamo dunque immediatamente il mister Epifani, mister dell'Aquila Calcio dal 6 luglio del 2022, e questa stagione è stata subito un gran bel risultato. Cosa vuol dire per lei e per la squadra questo risultato? Per me, l'ho detto sempre, sono anche ripetitivo, per me è motivo d'orgoglio, perché venire all'Aquila, parto dalla scelta iniziale, poi di venire qui all'Aquila ho fatto una scelta molto importante anche per la mia carriera, sapevo i rischi che andavo incontro, sapevo tutto, ho studiato un po' tutta la situazione dell'Aquila, anche dei campionati trascorsi precedentemente e della storia. Quindi il rischio è stato preso bello grande, sono venuto con molta umiltà, con grande determinazione, facendo insieme al direttore una squadra che poteva fare un grande campionato, ma prima di scegliere i giocatori abbiamo scelto gli uomini, il risultato è stato visto sotto tutti i punti di vista, quindi è stata un'annata fantastica, bellissima. Adesso che siamo arrivati alla Serie D è stata dura, perché ci siamo belli ovattati dentro, abbiamo continuato sempre il nostro cammino, non ci siamo mai fatti influenzare da situazioni esterne, anche di classifica, abbiamo portato avanti una linea di lavoro con grande sacrificio, con grande umiltà, come ripeto mille volte questa parola, perché senza di questo non puoi fare niente. Tutto questo, con le spalle, è una grande società che ci ha messo a disposizione tutto per fare questa cavalcata grandiosa, perché poi i numeri che ha fatto questa squadra sono penso incredibili, di questo ne sono orgoglioso, perché alleno dei ragazzi veramente fantastici, quindi sono contento per me principalmente, per la mia carriera, per il mio fatto di essere allenatore, ma sono stracontento per i ragazzi, perché anche loro hanno scommesso tanto su questa annata, quindi siamo contenti, in questi giorni ci stiamo godendo anche la festa, quindi ripeto, adesso ci iniziamo a rendere conto anche di quello che abbiamo fatto. Ecco, parliamo di un festeggiamento anticipato, diciamo, con ben tre turni di anticipo, e come è stata, come ha vissuto lei quella partita, la partita del 26 marzo, è stata combattuta fino alla fine? Ma è stata una giornata, se uno deve raccontare per com'è finita, penso che sia straordinariamente bella, poi ripeto, ho studiato molto la storia dell'Aquila, a Prato era successo completamente il contrario, anche se la situazione è completamente diversa, perché ha 10 punti di vantaggio, magari andava male domenica, vincevamo domenica la domenica dopo, quindi la situazione è completamente diversa, però è stata completamente il contrario, ho sentito qualche dichiarazione di qualche tifoso che l'ha ricordato, e questo ne sono ancora più contento, perché vuol dire che abbiamo fatto anche qualcosa per dimenticare quel brutto episodio, perché poi è capitato al contrario a noi. L'ho vissuta bene, anche se a un certo punto della partita avevo temuto che dovevamo rinviare la festa, e invece siccome alleno oltre che dei giocatori forti, alleno dei ragazzi che hanno dimostrato per l'ennesima volta che non si molla un centimetro fino all'ultimo secondo di partita, però dentro di me pensavo se facciamo il 2-2 ero convinto che riusciamo a fare anche il 3-2, perché vedevo nella rabbia che avevamo negli occhi da parte di tutti, da parte mia, da parte di chi stava in panchina, da parte dei tifosi, è stato tutto un coinvolgimento generale che ci ha portato a fare il 3-2 e mi ricordo l'esultanza sul 3-2, credo che è stata la gioia più grande da allenatore da quando alleno, quindi me la porterò sempre nel cuore e quindi questo ne sono strafelice, perché poi ho visto esultare molti tifosi aquilani, e questa è la cosa più importante. Io quando sono venuto, lui troppo confermare, ho sempre detto che volevo regalare una piccola gioia a questo popolo, perché, ripeto, ha passato tante difficoltà, si è rialzata piano piano in piedi, con forza, con tenacia come sono gli aquilani, e io sono venuto qua, ho detto voglio regalare una piccola gioia, che poi, con fronte a quello che è successo, non è niente, perché non parliamo di niente, però vederli esultare, abbracciarsi fra di loro, per me è stato un motivo d'orgoglio. Un significato importante, certo. Sono sicuro che questa vittoria rimarrà nel cuore, anche di qualcun altro dentro questo studio. Infatti vi rivolgo proprio a te, Angelo, ti do del tu, come di consueto si fa dalla giornalisti. Grazie, grazie. Quello che volevo chiederti è che tu hai definito la partita di domenica come un film thriller, proprio all'ultimo minuto. Raccontaci quello che tu hai provato durante quella partita, da narratore, ovviamente, e poi passiamo invece al racconto della stagione. Guarda, Tommaso, è stata una partita che all'inizio sembrava essersi messa subito sui binari giusti. Posizione di corticchia, perfetta, palo e gol dopo quattro minuti. L'Aquila che poi gestisce senza farsi intimidire o impensierire dalle forate del capistrello, ricomincia il secondo tempo su un pallone buttato in avanti. un rigore, un contatto tra il portiere dell'Aquila mascolo e mi sembra lo stesso numero 11, Franchi, che poi è andato sul dischetto, uno a uno e lì, diciamo, poi, oltre al risultato ritornato in parità, anche le forze in campo sembravano essersi equivalse perché il capistrello, naturalmente, ha ripreso molto spirito. L'Aquila non si aspettava forse un inizio di secondo tempo così, naturalmente, al primo minuto neanche il tempo veramente di riprendere posizione. Sulle ali di questo entusiasmo il capistrello ha fatto anche il 2-1 ribaltando il risultato. L'Aquila che, tra le altre cose, mister, aveva dovuto anche fare i conti con infortuni, con cambi imprevisti. Penso a Shiba, che si è fatto male e è subentrato Nicola Santirocco, è stato messo in campo a Sarrizzo, che non era il meglio e poi, anche per via del tipo di campo, credo abbia avuto qualche problema che si è ripresentato e quindi è dovuto uscire. Insomma, come dicevo Tommaso, nell'articolo per Newstown e nel servizio per la QTV, a un certo punto sembrava quasi che tutto il fatto un'altra volta remasse contro l'Aquila e invece, anche grazie alla sagaccia tattica del mister, Mantini è entrato in tutti i due gol dell'Aquila da subentrato e è stato bravo il mister a leggere, anche a guardare i suoi uomini negli occhi, a infondergli quella fiducia, quel coraggio e in due minuti, dopo il novantesimo, dopo che, e ha detto bene il mister, tante volte era successo, ma anche senza andare troppo lontano, banalmente, la finale di Coppa Italia e anche qui, mister, ci sono corsi e ricorsi storici che poi magari ricorderemo, l'Aquila aveva preso il gol che poi si era rivelato decisivo al centoventunesimo, e invece, per una volta, i Rosso-Blu hanno ripreso in mano il loro destino, prima Santi Rocco, Aquilano, tra l'altro, poi Jonathan Alessandro, anche lui, una storia da raccontare, perché da ottobre, praticamente, ha avuto problemi fisici che molto lo hanno limitato, Alessandro è un giocatore, una seconda punta, che ha agito anche da centravanti, ha fatto tante stagioni in Serie D, e proprio lui, che appunto, forse è stato un po' limitato quest'anno, ma grandissimo professionista, ha regalato all'Aquila, credo una delle gioie più esplosive, perché vincere, vincere in quel modo, e ce lo siamo raccontato, e detto con il mister, proprio nell'immediato post partita, credo che sia proprio la chiusura di un cerchio, praticamente perfetto. Ecco, vediamo che Angelo è una vera e propria varra umana, e quindi, proprio per questo motivo, ti chiedo di raccontarci, non solo in questa partita, che ovviamente è stata intrisa di passione, di voglia di vincere, di farcela, ma questa stagione, diciamo, come siamo arrivati a questa partita? Poi sentiremo il commento del mister, del tuo racconto. Allora, partiamo col dire che è stato quasi un cerchio perfetto, la presentazione, il mister l'ha detto bene, lui è stato ufficializzato come tecnico il 6 di luglio, il 25 di luglio è cominciata la preparazione, 25 luglio, 26 marzo, le due date, sono quasi otto mesi e un giorno, otto mesi e un giorno di una cavalcata che l'Aquila ha interpretato, credo, nel migliore dei modi. Do qualche dato, l'Aquila ha perso a Giulianova e si era agli albori del campionato, ha pareggiato con la Torrese e da lì in poi ci sono stati mister 17 risultati utili consecutivi, un girone praticamente, Tommaso, considerando le 18 squadre partecipanti. Un girone dopo, una sconfitta a Castelnuovo con la Torrese, anche lì, diciamo, con più di qualche rammarico e cosa da dire, ma anche lì, nel momento, nell'unico momento in cui c'è stato uno stop, l'Aquila ha tratto ancora più forza da questi pochi, pochissimi, oggettivamente, momenti di difficoltà, si è corazzata ancora di più e da quella partita ha ripreso ancora una volta una cavalcata che poi l'ha portata alla partita decisiva, quella che abbiamo raccontato al profeta di San Benedetto dei Marsi. Ma questo, lo diceva bene il mister, è frutto di un progetto, anzitutto, un'unità di intenti che è venuta fuori, molto, ho parlato molte volte col mister, ogni sabato prima delle partite, con il direttore sportivo Simone Bernardini, la costruzione della squadra è stata fatta intersecando le proposte del direttore sportivo, le richieste, credo, di mister Epifani, portando tutti i giocatori che sono stati utili alla causa Rosso Blu, ma non soltanto per il dato atletico, agonistico, si è fatto veramente gruppo e questo, credo, sia il simbolo della vittoria di quest'anno. C'è stata una unità di intenti dal primo all'ultimo giorno, dal primo all'ultimo componente di ogni ingranaggio della macchina Rosso Blu. Ecco, che effetto le fa risentire questo racconto, risentire tutti questi dati, questi momenti che lei ha vissuto in prima linea? Sono effetti positivi sicuramente, poi Angelo è stato sempre presente, ha seguito tutte le mie conferenze di stampa, ho cercato sempre di mantenere una linea, ma era la linea quella che pensavo veramente che portasse frutto. Ripeto, poi siamo stati ovattati, sono stato bravo insieme allo staff a cercare di tenere tutto ovattato all'interno, di far rimanere tutto all'interno, anche se non ci sono state mai delle grosse cose da sistemare. Io sono contento del percorso fatto perché viene da lontano. Quando io e il direttore ci siamo seduti e abbiamo iniziato a pensare di fare la squadra, abbiamo pensato prima agli uomini che oltre a essere che giocatori forti. Credimi, non abbiamo mai avuto un pensiero diverso sui giocatori che dovevamo prendere, quindi già questo fa capire la forza quando tu la pensi uguale a quello che ci devi confrontare quasi tutti i giorni. Penso che sia una forza molto importante. Poi qui non era facile perché si veniva a due campionati dove l'Aquila purtroppo per vicissi tutti i vari non è riuscita a vincere e quindi l'ambiente era sfiduciato c'era un po' di allontanamento nei confronti della squadra e questo l'abbiamo percepito già dalle prime domeniche. Piano piano con il lavoro con grande sacrificio con la serietà del progetto perché poi abbiamo visto che piano piano si si sa ad avvicinare sempre più le persone. Credo che la scintilla più grande è stata la partita di Città Sant'Angelo dove abbiamo vinto una grandissima partita su un campo pesantissimo dove non eravamo nemmeno abituati e quindi abbiamo tirato fuori veramente una partita importante. Da lì è cambiato un po' il vento anche della città si è ricreato un pochettino di entusiasmo e abbiamo iniziato a sentire più la vicinanza e da lì ho dovuto ricambiare di nuovo perché ho cercato di ovattare cercato di isolare la squadra dall'entusiasmo perché poi il calcio non è una legge esatta e quindi è pericoloso poi puoi scivolare e ti puoi ritrovare in situazioni poco piacevoli invece noi siamo stati sempre bravi a portare avanti il discorso e chiudere questo campionato il prima possibile perché finire il campionato a quattro partite dalla fine stando essere stati poi cinque punti sotto a Giulia Nova credo che questa squadra vuol dire che ha fatto un grandissimo percorso e quindi bisogna dar merito a questi ragazzi perché hanno fatto veramente una cavalcata incredibile ecco si sta puntando tanto su questa squadra no? questa bella narrazione di questo team unito di anche questa società questa gestione partecipata della squadra anche con il sostegno di tifosi tutto questo che cosa vuol dire ma anche che cosa vuol dire per la città questa promozione il sindaco ha parlato anche di importanti investimenti per sostenere questa ondata insomma c'è proprio una voglia di rosso-blu quasi no? sì ma il gruppo ripeto abbiamo costruito una squadra di uomini perché avevamo bisogno di questi io mi giocavo tanto come direttore nel momento in cui io mi gioco tanto mi devo portare i giocatori che li conosco che sono persone serie ragazzi seri che sanno dove vengono e che cosa bisognava fare perché tanti giocatori tu parli di giocatori forti delle volte vengono per il nome vengono per la squadra ma poi ai fini del gruppo sono poco incisivi anzi sono deleteri noi invece in questo siamo stati molto attenti e abbiamo fatto questo tipo di cavalcata quindi mi ripeto quello che ho detto prima non è che viene a caso i risultati i risultati vengono avendo una progettualità poi c'è anche da dire un inciso che noi abbiamo giocato tutte le partite sapendo di dover solo vincere non è che avevi tanto margine d'errore e quando tu devi vincere sempre in conti squadri che non hanno nulla da perdere contro l'Aquila e tenere l'asticella alzata per sempre ogni domenica non è semplice quindi c'è stato un grandissimo lavoro dietro che oggi può sembrare niente ma è un grandissimo lavoro per quanto riguarda la città i tifosi aquilani devono essere orgogliosi di avere questa squadra che questi ragazzi hanno rappresentati coloro e rosso blu in giro per l'Abruzzo perché sono stati fantastici il sindaco ci è stato molto vicino ma tutti i politici qui aquilani ci sono stati molto vicini e piano piano ci sono avvicinati anche i tifosi che è la cosa più importante l'Aquila merita sicuramente palcoscenici diversi e anche questo ho detto sempre in conferenza stampa che per me la cosa più difficile è tirare fuori questa squadra da questa categoria perché può sembrare scontato fai la squadra forte fai tutto quello che devi fare ma non è scontato che vinci questo campionato perché tutti ti fanno la guerra calcisticamente parlando quindi uscire da questa categoria è un passo veramente molto importante adesso dobbiamo essere bravi come abbiamo fatto quest'estate a non sbagliare praticamente nulla per cercare di programmare anche qualcosa di importante per riportare l'Aquila nei campionati che merita che secondo me è il professionismo anche perché Tommaso scusami se ti interrompo mi rivolgo direttamente al mister sono arrivati giocatori forti sono arrivati giocatori di categoria superiore ma sono stati bravi e lei è stato bravo a farli calare nella mentalità dell'eccellenza anche questa non è una cosa scontata sì questa è una cosa importante però questo è frutto anche della mia esperienza che ho fatto già un campionato d'eccellenza con il San Nicolò quindi questo campionato lo conosco molto bene e mi ripeto come ho detto prima puoi avere anche i giocatori forti come abbiamo preso noi perché abbiamo preso i giocatori che hanno fatto tanta serie D però se non prendi il giocatore forte che si cala anche in questa categoria fai fatica noi in questo siamo stati bravi ripeto perché poi vai a giocare anche nei campi dove una volta ho fatto un discorso alla squadra ho detto dobbiamo portare via da questa categoria l'Aquila perché non può con tutto il rispetto dei campi di eccellenza portare una squadra blasonata come l'Aquila e quindi noi ci siamo immedesimati tutti quanti a cercare di tirar fuori questa squadra da questa categoria facendo poi grandi partite perché poi la squadra ha sempre giocato bene tranne qualche passaggio a vuoto che ci può stare ma me ne ricordo pochissime e quindi la vittoria di questo cambiato vale ancora di più perché per il modo come è avvenuto per il modo come è giocato e per il modo di come hai affrontato tutte le partite quindi questo ha un valore più importante da questo ci dobbiamo costruire il futuro e dobbiamo essere bravi adesso nei mesi in cui staremo fermi a cercare di non sbagliare praticamente nulla ecco quindi c'è questa voglia proprio che trasuda dalle parole del mister di alzare la sticella da parte dell'intera squadra tu come ha già ben detto il mister sei stato presente ad ogni conferenza stampa hai raccontato nel minimo dettaglio vedendo qualsiasi spostamento dalla parte della squadra dei dirigenti dal tuo punto di vista così privilegiato qual è l'impatto che avrà questa promozione che già sulla città sia a livello politico nel senso delle decisioni che verranno prese nel mondo nell'ambito sportivo un ambito di cui tante volte si è lamentata la poca attenzione nei confronti del quadro e tante volte si è lamentata la poca attenzione ma anche nell'ambito poi del legame tra la squadra e la città guarda è innegabile che il legame tra la squadra e la città si è visto e si è visto forte esemplificato dai 600 e più tifosi che c'erano domenica a San Benedetto dei Marzi c'è una foto che sta facendo davvero il giro del web in cui si vede Jonathan Alessandro l'autore del gol decisivo che corre verso il mister Epifani che lo aspetta praticamente a braccia alzate a braccia aperte e dietro un mare di tifosi con bandiere sciarpe quella credo sia proprio in un istante la fotografia della stagione dell'Aquila per il futuro io mi ricordo e l'ho ricordato anche intervistando il sindaco dopo la fine della partita con il Capistrello un passaggio della conferenza stampa di presentazione della stagione in cui lui disse noi vogliamo stare vicini ai colori rosso-blu lo faremo anche con l'attrazione di investimenti per lo stadio per l'impiantistica a me lo ha ribadito anche alla fine della partita con il Capistrello se due indizi Tommaso fanno una prova per il futuro almeno da questo punto di vista c'è da stare diciamo abbastanza tranquilli il futuro naturalmente come ha detto il mister porterà la necessità di alzare ancora più l'asticella ma la parola d'ordine che c'è stata in questa stagione è stata concretezza si è visto anche già da alcune scelte proprio anche a livello diciamo di impatto comunicativo la presentazione ufficiale della squadra in comune toni molto sobri sia da parte della dirigenza copresidente Salvatore Di Giovanni lo stesso mister Massimo Epifani mai un atteggiamento sopra le righe sempre concentrato testa bassa lavorare l'obiettivo c'era e lo si sapeva ma appunto come è stato già detto dal mister vincere non è mai facile si punta in alto però poi bisogna arrivarci l'Aquila in questo 2022-2023 davvero ha fatto un percorso invidiabile non trovo altri aggettivi per definirlo se non questo ecco adesso facciamo una piccola parentesi di metagiornalismo diciamo che cosa come è cambiato il modo di raccontare lo sport in questa città anche pensando al parallelismo a cui faceva riferimento anche prima il mister fra quegli eventi che si sono succeduti in questo territorio e comunque le disfatte di alcuni momenti per l'ambito sportivo di questa città e le rinascite quindi anche la narrazione dello sport legata anche a quanto accaduto in questo territorio guarda Tommaso legato ovviamente scusami se ti interrompo anche ai tempi che sono cambiati per quanto riguarda proprio il modo di raccontare hai proprio anticipato quella che voleva essere la mia prima riflessione ormai viviamo in un mondo in cui l'immediatezza è tutto si fa la corsa diciamo a pubblicare a stare sul pezzo ed è giusto così perché molto ormai si gioca su quello ti svelo un piccolo piccolissimo retroscena per Newstown appunto io di solito curo gli articoli per la partita di San Benedetto dei Marsi mi ero messo d'accordo con il caporedattore ho detto a fine partita al fischio finale se e lì ho toccato incrociato ho fatto tutti i riti e i gesti apotropaici del mondo se tutto va come deve andare io mi preparo comunque un post da pubblicare perché è importante intanto dare la notizia e poi fare quello che piace fare a me cioè raccontarlo raccontarlo con emozione naturalmente senza diventare di parte anche se è naturale che io vado allo stadio prima al fattore poi all'acconcia da quando avevo forse 12 anni era la stagione 97-98 quindi è normale che il mio cuore batte per l'aula assolutamente sì e così ho fatto finale di partita in cui a un certo punto negli ultimi minuti davvero capivi quello che stava succedendo ma era un mare di emozioni però per un attimo sono ritornato razionale ho detto ok un attimo devo finire di scrivere pubblicare e poi mi continuo a lasciar trasportare prima di entrare in campo e poi bloccare il mister è stata una cosa bellissima anche perché non ti capita tutti i giorni di raccontare la vittoria di un campionato anzi mister Epifani ha portato all'Aquila il primo campionato d'eccellenza vinto sul campo 2008-2009 altro piccolo inciso storico l'Aquila si stava giocando il campionato con Migliani e San Nicola Sulmona poi diciamo i 20 altri stopparono quel percorso e insomma essere veloce sì ma poi andare ad approfondire a raccontare a dare anche qualche nota di colore in più perché il giornalismo non può essere solo cronaca asettica qualcosa in più ce lo devi mettere altrimenti non passa anche l'emozione che ti può dare una partita di calcio si dice lo sport non è arte no lo sport può essere arte perché anche l'arte dà emozioni per chi c'era domenica a capistrello per chi l'ha sentita raccontata per chi l'ha vissuta quello è un pezzo di storia che credo rimarrà fa parte del presente ma se ne parlerà anche in futuro certo allora non mi resta che chiedere al mister di dare un messaggio ai tifosi per queste ultime pochissime partite di campionato con la gioia nel cuore però un messaggio ai tifosi e alla squadra ma i tifosi c'è poco da dire perché domenica a San Benetto veramente sono stati formidabili e credo che portare 600 tifosi in trasferta o più di 600 perché secondo me erano di più di 600 in un campionato di eccellenza dove all'inizio della stagione c'era grande scetticismo quindi questa è già una grandissima risposta che i tifosi hanno dato a noi perché poi sono loro il motore dell'Aquila Calcio sono loro noi si chiamiamo la squadra della gente ma ci rappresentiamo molto nella squadra della gente perché credo che l'abbiamo dimostrata in mille situazioni che abbiamo nella società delle persone veramente fantasche che non vogliono mai apparire però sono il motore di questa squadra che sono Marco e Giulio io lo dico perché gli voglio un bene dell'anima e se sono oggi all'Aquila qui devo ringraziare Giovanni che mi ha dato la possibilità di venire a parlare con loro ma nel momento in cui ho parlato con loro due più il presidente dell'Aquila Roberto Bove mi hanno trasmesso quella forza di dire cavolo devo rischiare è l'ora di rischiare perché viene a rischiare con delle persone che sicuramente ti sostengono e ti danno forza perché in tutto l'anno loro sono stati veramente formidabili sono stati sempre dietro le mie spalle ci hanno dato carta bianca al direttore sulla squadra sull'aspetto tecnico non hanno messo mai bocca e per un allenatore questo è importante piano piano abbiamo riconquistato i tifosi adesso gli dico a loro di stare vicino a questa squadra a prescindere dall'allenatore dai giocatori devono amare l'Aquila perché secondo me con questa società può avere un percorso molto importante tra l'altro prima di chiudere Don Basso una cosa al volo si è molto calato nella realtà aquilana tant'è vero che lei ha voluto tanti aquilani nello staff in squadra insomma si può dire Massimo Epifani ormai è aquilano a tutti gli effetti ma io l'ho detto quando sono venuto qua che ho scommesso su me stesso la prima cosa che ho pensato devo capire come il tessuto aquilano devo capire gli aquilani come la pensano devo diventare come loro perché poi sono abruzzese noi che sono di Milano quindi ho cercato di mettermi dentro lo staff tecnico persone aquilane che mi hanno nato una grossissima mare perché il mio staff è la mia forza e ho voluto dei giocatori all'interno perché devono rappresentare l'aquila e siccome l'aquila aveva bisogno di risollevarsi avevo bisogno anche di aquilani che hanno voglia di riportare l'aquila in categorie importanti è andato tutto bene oggi possiamo dire che è andato tutto bene ma sono contento di essere oggi qua benissimo allora anche quello di Massimo Epifani è un esempio di uno spazio occupato e noi non possiamo altro che essere contentissimi di questa adozione abbiamo raccontato questa bella esperienza questo profondo significato dello sport è una vittoria che racconta tanto e tanto anche di questo territorio di questa città e del mondo dello sport locale io ringrazio infinitamente i miei ospiti Massimo Epifani grazie a voi e Angelo Liberatore grazie Tommaso e adesso concludiamo la puntata abbiamo concluso anche questa puntata di Spazio Occupato nella nostra ghiacchierata il mister Epifani ha citato più volte il lavoro di squadra l'importanza della passione della sinergia fra giocatori tifosi allenatori e tutto ciò che si muove intorno ad una squadra di calcio come può essere una squadra di un altro sport lo sport come un movimento come un qualcosa che rappresenta più di una semplice partita o più di un semplice allenamento ma un movimento sociale così potremmo definirlo e per questo guardando a questo carattere sociale a questa dimensione sociale dello sport mi sono venute in mente delle parole che Papa Francesco ha speso per il mondo dello sport Papa Francesco ha scritto un'enciclica laica dedicata a questo tema e più volte lo ha trattato in diversi discorsi dunque ho trovato una frase che mi ha colpito parecchio che può essere fonte di ispirazione per riflettere in maniera un po' più profonda sulla tematica dello sport lo sport non è solo una forma di intrattenimento ma anche uno strumento per comunicare valori i valori che promuovono il bene della persona umana e contribuiscono alla costruzione di una società più pacifica e fraterna queste sono le parole che Papa Francesco ha pronunciato nel video messaggio del 12 giugno del 2014 in occasione dell'apertura della Coppa del Mondo in Brasile penso che ora più che mai abbiamo bisogno di tentare di costruire una società più pacifica e più fraterna e di certo non possiamo perdere l'occasione di utilizzare anche il fronte dello sport per farlo e forse anche in questa città in particolare in questo periodo in questo aprile che arriva e che ci tocca così tanto pensare allo sport in questa dimensione sicuramente può aiutarci per questo motivo io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Spazio Occupato di Spazio Occupato grazie a tutti Grazie a tutti